ciao a tutti ragazzi sono lucetto benvenuti nel mio canale oggi appuntamento speciale con feria perché hanno fatto una grande patch hanno messo altre lingue oltre l'inglese francese tedesco russo spagnolo però purtroppo manca ancora l'italiano che lo implementeranno in futuro mettiamo la lingua inglese iniziamo ragazzi questa patch ha portato non solo l'implementazione di nuove lingue ma anche alcuni miglioramenti grafici e bilanciamento delle carte ragazzi ho fatto tantissime battaglie online infatti sono salito a livello 9 ne ho perse tantissime e vinto davvero poche però è tutta esperienza e adesso ho fatto ho costruito un deck abbastanza competitivo questo qua deserto rosso ragazzi mi sono dimenticato di dirvi che adesso feria è finalmente disponibile su steam il gioco è free to play però hanno messo un pacchetto completo al costo di 22 23 euro avete 20 bustine avatar personalizzato e l'accesso all'arena la pandora però come potete vedere è ancora chiusa la implementeranno in seguito quindi chi di voi vuole giocare con me mi aggiunga tra i suoi amici come lucchetto games ragazzi ho creato questo deck abbastanza competitivo rosso giallo ve lo mostro ragazzi prevalentemente è rosso con una spruzzata di giallo le carte rosse in fligoro danno direttamente alle creature o direttamente all'avversario invece le carte gialle ma questa qua soul drain risucchiano la vita alle creature o all'avversario ed è ottimo davvero questa questa qui appena entra fa due danni all'avversario questa fa un danno posso dire alla creatura o sempre all'avversario quando moro nella creatura infliggo un danno questa è la più versatile pago tre di feria faccio tre danni se pago se pago altri tre feria infliggo tre danni adiacenti questo qua quattro danni se calano un ciccionissimo i più forti sono il grim guardian e lo shading brute perché ogni volta che combattono l'avversario prende due danni questo qui sempre risucchia tre vita all'avversario chi altro rimasto questo qui è la carta di rimozione per eccellenza distrugge una creatura la possono aumentare fortissima muore e poi ci ho aggiunto giusto una carta così balter rager quando questa creatura infligge o viene inflitta danno infligge quel danno all'avversario quindi se non abbiamo la rimozione lucicala un mostro ciccione che ha potenziato arriva a 20 a 30 ragazzi ho visto la ruptura a 50 lo attacchiamo e anche il danno che subisce quel 50 gli arrivano in faccia all'avversario e possiamo vincere ragazzi mi faccio salire come sono salito di livello e poi ci sono anche i reward ogni tot di livello bloccheremo una cosa livello 3 il crafting quindi finiamo il tutorial e possiamo già craftare le carte livello 5 le monete a livello 8 sblocchiamo la modalità competitiva livello 10 un avatar poi soldi e altre cose inoltre se vinciamo una partita vinciamo 10 gol 10 soldi anche se vinciamo o perdiamo una partita sia classificata se non classificata accumuliamo esperienza se ne se vinciamo l'esperienza di più la differenza tra la modalità classificata e non classificata e questo qui è ranking ragazzi il ranking aumenta vincendo di fila due battaglie passiamo non al rank 24 fino arrivare al rank numero 1 se ne perdiamo una partita perdiamo una stellina e veniamo declassati invece la modalità pandora l'arena per adesso è ancora inattiva bisogna aspettare una nuova patch ragazzi ho guadagnato una bustina apriamola subito abbiamo già tutte le carte quindi un draghetto il grizzly questo qui se muore infligge due danni e carte blu ragazzi adesso proviamo a fare una battaglia online scegliamo non classificata così che ragazzi abbiamo trovato un avversario lui a livello 6 vediamo che becca avrà allora vediamo un po ci teniamo tutte le creature questo deck è molto aggressivo dobbiamo arrivare subito sotto il suo avatar sotto lord vediamo se riusciamo a vincere insieme noi non dobbiamo collezionare ferie all'inizio i nostri pozzi non sono quelli vicini ai nostri ma quelli dell'avversario vediamo cosa userà lui ragazzi questa creatura la useremo per la fine quando calerà un mostro davvero forte queste qua sono le nostre creature che faranno tutto il lavoro scorco che è verde a questo buono cacciatore ogni volta che guadagna feria aumenta una creatura più uno più uno adesso in questo modo non raccogliamo il ferie dai pozzi però lo accumuliamo ogni turno che passa siccome lui è l'unica creatura si potenzia in automatico questo cacciatore e poi evocheremo solo due montagne e attaccheremo direttamente senza pietà il nostro avversario adesso lui evocherà qui questa struttura guadagna più una vita quando ha 6 più strutture ok va bene vai con la nostra prima montagna qui accumuliamo tutto il mana pesco una carta allora faccio due danni niente non muore nessuno niente di fatto niente ragazzi cosa abbiamo persa dovevo evocare un turno prima questo qui eh sì altrimenti era nostro abbiamo perso e però sale sempre l'esperienza ci riproviamo che ragazzi ci riproviamo dobbiamo essere ancora più aggressivi allora vediamo ok questo è un ottimo starter iniziamo anche per secondi ah mannaggia quindi abbiamo lo svantaggio delle terre sarà difficile poi qua non conta il livello 9 3 4 le carte sono quelle bisogna giocare un po di tattica con nel posizionare la terra giusta al momento giusto con le carte giuste anche con le carte che avete all'inizio si può vincere anche pure questa perché per il momento il gioco lo vedo abbastanza equilibrato tranne le carte leggendarie che sono fortissime e mi sa che abbiamo un deck uguale contro no c'è a volare questo quando pesca una creatura volante si aumenta ai 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 e ne abbiamo due green guard quindi sono già quattro danni 4 6 6 7 8 9 danni in mano abbiamo però li dobbiamo saper sfruttare bene lui è volante ok però se aumenta ok lui resiste perché ha 5 di vita e siccome è a provocazione questa creatura deve attaccare la nostra perfetto così a 6 feria non ha evocato deserti vediamo cosa fa un deck nuovo ragazzi questo volante vediamo che l'ha messo dall'altra parte vediamo un po può essere evocato vicino a una creatura e lui c'ha 4 però gli è tosto lui è tosto allora queste qui moriranno in automatico perché non ce la faranno volare non può essere attaccato ok adesso mi sa che facciamo così dove qua siamo questa questo evento due danni a lui la creatura sono una creatura di donna l'avversario direi basta no no ragazzi non fare più danni possibili così comunque quante più creature dobbiamo andare all'attacco senza paura dritti adesso lui ha 3 carte in mano lui non può muovere queste creature mi deve attaccare la guardia che non morirà deve attaccare con tutti e due ottimo e poi la io rievo a prega due danni adesso è morta adesso si può si può muovere come vuole ok ci ha fregato ha fregato c'ha le stesse carte nostre d'altronde è un deck giallo e io sai che ti dico che pure io la usa qua ahia ho sbagliato questo c'ha 3 ragazzi devo fare danno arriverà a 2 attacchiamo la creatura e vai se farà di nuovo soul drain ci ammazza il mostro e si cura di due ragazzi eccolo l'ho chiamata la carta e mi sa che adesso vince lui va in vantaggio lui perché si cura ragazzi noi perdiamo contro i mazzi che si curano perché abbiamo i danni contati abbiamo messo un'altra creatura volante da 5 e ti rimetto questa dobbiamo pressare un altro deserto da direi di metterlo quale certo e questo mettiamo qua c'è due vai ha tre carte in mano e 5 feria può fare di tutto ancora ragazzi questa la vedo davvero tosta se non si curava quelle due volte era 14 di vita adesso sta pensando a come vincere perché siamo messi un po maluccio noi non penso un feria quindi non metterà a terra evocherà una creatura una creatura secondo me quale di quale di quale creatura si tratterà e voilà l'altra quante ne ha quante 3 ok le ha finite tutte non ne ha più finito non puoi mettere niente va bene ok 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 questa la teniamo allora iniziamo a bloccarlo aspetta però ho bisogno di feria 6 posso fare 3 e 3 6 allora se questo muore sono deciso di fare il flame burst a questa creatura ho 3 danni diretti lo faccio così 3 3 6 andiamo di feria così tu fai un danno a te questo fa un danno a questo e tu fai un danno qua resta a 13 e abbiamo finito tutto abbiamo raccolto neanche un feria dal pozzo ragazzi mamma mia siamo proprio a secco poi ci possiamo curare con lui comunque possiamo curarci di 5 danni con lui ci attaccherà tutto e adesso dobbiamo decidere se ammazzare questo ho messo una mamma mia con volare adesso è tosto ragazzi ci deve venire quella la carta che ci ammazza le creature la rimozione ma ragazzi non ci voleva non ci voleva non ci voleva non ci voleva peschiamo le carte no ragazzi troppe piccole creature che facciamo devo evocare altrimenti non facciamo niente e facciamo così niente un pochi danni ogni turno vediamo un po come andrà a finire non penso che non era questo piccolo mostriciato infatti sta avanzando e tutte le creature volanti ci hanno più 2 più 2 ecco qui come come va ah non ci ha attaccato qui va bene e va bene però noi possiamo farli fuori queste possiamo fuori fare quelle va bene va bene va bene ragazzi questo è il deck volante ah è venuto qualche cosa di bello tumori tumori e basta tumore e basta bella questa ragazzi vai lui è ancora lontano si può muovere lui di 2 lui di 1 e lui di 1 vediamo 8 danni se riusciamo a farglieli abbiamo 3 4 5 6 7 8 no 6 7 e basta 7 danni abbiamo in mano mannaggia e vai avanti fra 8 due volte ci attaccherà con questo e abbiamo perso e ha pescato un altro drago mannaggia mannaggia ok ci facciamo così rifacciamo così il bruto vai quindi 2 vediamo un po' facciamo 2 danni 2 4 5 6 7 8 9 però non abbiamo feria ah no ci evocherà uno fortissimo qui e perderemo ragazzi succede sempre così perché rimaniamo sempre scoperti vediamo un po' ma va a finire ha pure velocità quando controlliamo oh mamma mia 8 danni faccia ragazzi questo non possiamo bloccarlo non possiamo bloccarlo o ci farà 16 danni ragazzi mamma mia e poi abbiamo perso perché 6 danni non li facciamo nel prossimo turno aia questo è inutile mettiamo questo qua non ci riuscirà a prendere il coso però ci attaccherà quanto va lo mettiamolo qua e ci facciamo scor facciata di feria ragazzi se non si aumenta possiamo vincere vediamo no se metto un'altra torretta l'abbiamo perso da che mette la torretta come si chiama gold ah via via se ci lascia in vita questa è proprio uno stupido che cosa farai 4 danni a me ragazzi questi sono i 4 danni finali vediamo e anche sacrificato una creatura così a random dobbiamo vincere nel prossimo turno ma nel prossimo turno non ce la facciamo dobbiamo fare 3, 4, 5 se abbiamo 5 ferie abbiamo vinto ma ne abbiamo 4 la velocità no non c'è la velocità 3, 4, 5 credo che ce l'abbiamo fatta abbiamo vinto ragazzi come vi ho detto 5 ferie si vince così bisogna calcolare al millimetro non bisogna avere paura tanto lui ci attaccherà sempre ma il prossimo turno il prossimo turno aveva vinto lui chi sa come sta rusticando abbiamo vinto 10 monete se è la nostra vittoria ok ragazzi questo video finisce qui commentate condividete lasciate un like se il video vi è piaciuto e alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.